Io invito veramente tutti a sollecitare le forze dell'ordine tramite i numeri di emergenza perché è molto meglio intervenire per un falso allarme che intervenire per raccogliere una denuncia per una truffa patita. Questo l'appello del questore, un appello rivolto agli anziani, purtroppo anche ad Arezzo, sempre più spesso vittime di truffe. Paradossalmente sono diminuiti i reati predatori in base violenta e sono purtroppo aumentati in percentuale le truffe agli anziani. L'ultimo episodio solamente alcuni giorni fa nel quartiere di Saione dove un truffatore si è presentato alla porta di un ottantenne e con la scusa di un sopralluogo del parquet è riuscito ad entrare in casa. L'obiettivo del malvivente era la cassaforte a sventare il colpo o l'intervento provvidenziale della donna delle pulizie che ha allontanato l'impostore. Tramite i social riescono a costruirsi un copione, un vero e proprio copione. Si travestono da appartenenti alle forze dell'ordine, si travestono da impiegati delle piattaforme che generano energia, oppure sanno nomi, cognomi, gladi di parentela. È chiaro che colpiscono immediatamente la coscienza della vittima che poi è la chiave per poter portare a termine la truffa. Prevenire e sensibilizzare restano le principali armi di difesa così come segnalare e soprattutto denunciare. È chiaro che c'è un sentimento di vergogna, ma io consiglio sempre e invito tutti quanti a superare questa legittima e giustificabilissima fase. Perché se superiamo anche questo aspetto emotivo, ritorniamo nella possibilità, data alle forze dell'ordine, di poter intervenire prima possibile, se non proprio nell'immediatezza, ma prima possibile per poter assicurare alla giustizia questi delinquenti.